Buongiorno a tutti, vi ringrazio per essere qui oggi. La prima volta che ho fatto questa conferenza a febbraio era più facile perché le domande erano inviate. No, scherzo, credo che è importante anche per me oggi avere questa opportunità di parlare con voi, spiegare un po' la strategia e lo che è successo veramente nel mercato, ma prima di tutto volevo ringraziare la proprietà per il lavoro che ha fatto durante questi mesi. Quando parlo di ringraziare non è solo per il tema dell'investimento, è anche per l'aiuto, per la presenza ogni giorno, per la visione che loro hanno. Quando sono arrivato qui si parlava molto di un lavoro di squadra, ma non è solo teoria, è anche pratica. Noi abbiamo fatto le cose insieme, insieme con gli allenatori, abbiamo condiviso tutta la decisione che avevamo bisogno di prendere. e mi fa piacere perché per me è così che si può lavorare e fare lo meglio per la Roma. Dopo ho invitato queste persone per venire con me alla conferenza stampa perché fare più di 40 trattative durante due mesi non è solo Tiago Pinto. È l'ufficio legale, il finanziario, Morgan, Maurizio, che mi hanno aiutato tanto perché per voi molte volte sono nomi di calciatore, ma oggi con il calcio così professionista e così complesso è molto difficile portare avanti le trattative solo con una squadra così competente e con impegno si può fare. E alla fine direi che io sono molto esigente con me stesso, sono primo a rimanere arrabbiato quando le cose non vanno bene, ma io credo che questo sia stato forse lo mercato più difficile della storia recente del calcio e alla fine io credo che noi abbiamo riuscito a fare un buon mercato. Io non sono quello che vi chiama dicendo che forse ho fatto un grande mercato, che sono un bravo direttore sportivo, non è il mio modo di lavorare, ma alla fine con questo contesto abbiamo riuscito a portare il meglio allenatore del mondo a panchina della Roma, abbiamo riuscito a diventare una squadra più forte, abbiamo riuscito a trovare soluzioni per più di 30 calciatori, sicuro che voi parleranno di cose che non abbiamo riuscito, ma io credo che alla fine abbiamo fatto un buon lavoro. Claudio è qui con me, non solo perché mi piace, ma perché io credo che avremo qualcuna domanda che io non voglio sbagliarmi, l'italiano non è perfetto e lui è qui per qualsiasi cosa che io ho bisogno. Ricordava Tiago veramente l'estate difficile del calcio mondiale, dell'ottimo lavoro che ha fatto la Roma, come diceva lei bisogna essere sempre un pochino esigenti però, quindi ha migliorato il ruolo della panchina certamente, lo ha giustamente ricordato, ha migliorato il reparto difensivo, ha migliorato il reparto di attacco con più variabili, a centrocampo probabilmente manca qualcosa, le volevo dire se era finito il budget, se non avete trovato il profilo giusto, se date un'occhiata al mondo degli svincolati o se è tutto rimandato alle prossime sessioni di mercato. Io quando sono arrivato a Roma tutte le persone mi dicevano che era una piazza difficile, io credo che questi otto mesi sono anche, sto imparando un po' a vivere in questa città, con questo club, questa piazza, e oggi mi diverto un po' perché il mercato è chiuso ieri, abbiamo anche 4 o 5 finestre di mercato dove possiamo trovare qualche soluzione, ma tutte le domande sono i centrocampisti, oggi il chef della cucina mi ha detto direttore complimenti, bravo lavoro, ma quando arriva il centrocampista? Io credo che questo sia un tema del budget, perché dobbiamo capire che quello che noi abbiamo investito nel mercato è stato sopra quello che Dan e Ryan una prima volta avevano pensato, ma dopo il mercato è dinamico, noi dobbiamo capire i momenti, in determinati momenti abbiamo avuto la voglia di fare qualcosa di diverso per accelerare un po' il processo di ricostruzione della Roma, non è un tema del budget, tutti voi sapete che noi avevamo un interesse in Ciacca, che in un certo momento, nel momento giusto non abbiamo portato avanti, ma dopo hanno successo altre cose nel mercato, come ho detto è dinamico e noi abbiamo avuto la voglia di fare quello che era più urgente per la squadra e abbiamo fatto, non possiamo, e questo vi chiedo, no? Non possiamo dimenticare, io non voglio mai trovare giustificazione per il mio lavoro, ma non possiamo mai dimenticare l'eredità che noi abbiamo. Quando è iniziata questa stagione avevamo più di 60 calciatori su contratto e questo non è facile per gestire. Chiaro che voi, i tifosi, guardano, manca un centrocampista, manca un terzino, manca un attaccante, manca tante cose, ma alla fine dobbiamo avere un po' un equilibrio, no? Abbiamo fatto quello che non ha sembrato giusto per diventare la squadra più forte. Mourinho ha detto che di Pellegrini ne vorrebbe tre, significa che gli deve triplicare lo stipendio? A parte gli scherzi, a parte la battuta, se l'aspetta una trattativa, questa del rinuovo, un po' complicata? No. Lorenzo Pellegrini voglia rinnovare per la Roma, la Roma voglia che Pellegrini rinnovano. Non è un problema. Bajda, Corriere della Sporta. Buongiorno. Tutti i direttori sportivi che mi è capitato di incrociare in carriera mi hanno detto che il bravo direttore sportivo non è tanto quello che compra, ma quello che vende. Ecco, lei è soddisfatto del lavoro che è riuscito a fare in quell'ambito delle cessioni e visto che sono rimasti degli esuberi che voi avete indicato chiaramente mettendoli in un'altra lista, credo mi corregga se sbaglio, restano Zonzi, Fazio, Riccardi e Sant'Ono. Ecco. Questi giocatori, visto che adesso il mercato è chiuso e potreste avere delle carenze, possono essere reintegrati? Tu hai fatto dieci domande, non ne so. È una specialità, direttore. Sei bravo, sei bravo. Io non lo so con chi direttore sportivo tu parli, ma io credo che loro hanno ragione e posso invitar a te a fare una lista di quanti direttori sportivi hanno venduto calciatori durante questa estate. Guardare, per esempio, i sette big d'Italia e quanti calciatori hanno venduto. Io credo che trovare soluzioni per più di 30 calciatori, anche se non hanno stato venduti, io credo che è un buon lavoro. Trovar soluzioni per calciatori con un ingaggio e stipendio così elevato, credo che è un buon lavoro. Forse avranno direttori sportivi più bravi che me, sicuro. Sono qua per imparare tutti. Tutti, ma mi sembra che questa domanda è una domanda giusta in altri mercati. In questo mercato, credo che basta, Atletic, per esempio, ha fatto una ricerca di come è andato il trasferimento in questo mercato e possiamo vedere e dopo se può giudiziare se abbiamo fatto bene. Per me è chiaro che sarebbe meglio se riuscimmo a fare qualcuna vendita, se riuscimmo a trovare soluzioni per tutti i calciatori. Non abbiamo trovato solo per quello che non hanno voluto andare. Io credo che abbiamo dieci, credo, dieci finestre di mercato aperte, ma tre, quattro dove credo si possono trovare soluzioni. Lavoreremo per questo. Mourinho ha parlato anche di questo tema. Noi abbiamo fatto il nostro lavoro, no? Noi abbiamo lavorato molto e abbiamo portato alla tavola offerte per tutti i calciatori, offerte buone, offerte dove nessun calciatore perdeva un euro. Dopo io non posso andare dentro della testa del calciatore. E così vediamo lo che succede, abbiamo mercati aperti, lavoreremo insieme altra volta con calciatore, procuratore, con tutte le mie staff e vediamo lo che succede. Dopo il mercato è finito, vediamo. Ciacchini, ragazze tra lo sport. Buongiorno direttore, volevo chiedere questo. Ha detto bene, la Roma sui giornali, in tv si sente che è il club che ha speso di più sul mercato. I Fredkin hanno messo un extra budget, come ha sottolineato. Lei, la Roma ha preso il più forte allenatore del mondo, l'ho appena detto. L'Inter ha perso il giocatore più forte, Lukaku, la Juve ha perso il giocatore più forte, Cristiano Ronaldo, il Milan ha perso il giocatore più forte, Donnarumma. Secondo lei la Roma può lottare per lo scudetto e secondo lei se la Roma non arrivasse in Champions League, alla luce di tutti gli investimenti fatti, sarebbe un fallimento? Grazie. Non ho capito l'ultima domanda. Alla luce di tutti gli investimenti, la Roma può lottare per lo scudetto e qualora non arrivasse in zona Champions League, fra le prime quattro, sarebbe un fallimento? Sì, sì, ho capito, scusa. La mia visione non è il scudetto, la mia visione è ogni giorno lavorare per fare vicina la distanza tra la Roma e il successo. Noi abbiamo parlato tante volte di tempo, ma tempo non è una scusa per non vincere, è chiaro che noi vogliamo vincere, vogliamo vincere anzitutto Sassuolo. Io credo che noi abbiamo un allenatore, come aveva detto, lo più forte, lo più bravo del mondo, abbiamo una squadra più forte che la stagione scorsa, abbiamo fatto una cosa che forse magari voi non hanno capito così bene, abbiamo fatto tanto cambiamento nella struttura vicina alla squadra e tutto questo io credo che diventa la Roma più vicina del successo. Ma il successo io non posso pensare in maggio perché siamo in settembre, noi dobbiamo avere una mentalità di vincere tutte le partite. Dopo la fine della stagione se stiamo nella lotta per quegli obiettivi ci saremo. Obgettivamente con la seconda domanda, è chiaro che la Champions è il principale obiettivo. non mi nascondo in parola sveglia perché è chiaro che è per questo che siamo qua. Salve Pinto, lei si è definito adesso un perfezionista, allora io l'astuzzico un pochino e le chiedo qual è il rimpianto a fine mercato, al di là degli esuberi di cui ha parlato, io le chiedo un rimpianto di questa sessione di mercato, se può essere sincero e dircelo. Come aveva detto il mercato è molto dinamico, in quel momento che non abbiamo riuscito a prendere Schalke, nessuno vuole essere un po' rifuttato, lui voleva venire, Arsenal non ha voluto vendere, in quel momento è stato un rimpianto dopo con tutto il dinamico che è successo nel mercato, abbiamo cambiato un po', ma io credo che il rimpianto vero per me è stata questa situazione dei esuberi perché veramente io, Morgan, tutte le persone qui in questa sala abbiamo lavorato, abbiamo lavorato molto, abbiamo lavorato molto per portare offerte degne, offerte buone che rispettano il calciatore e alla fine è una situazione che a me non mi piace. Buon pomeriggio. Le volevo chiedere del rapporto con Mourinho, perché immagino che una personalità di questo tipo è un allenatore che fa pressione in senso buono, positivo, le fa anche in conferenza quando ci dice in panchina non ho esperienza, mi manca qualcosa, se questo per lei è stato uno stimolo in più, ma anche un peso in più. No, 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 io sai, a parte di qualcuna stampa dire che è stato un irlandese che ha preso Mourinho, io sono molto orgoglioso di avermi riuscito tutti insieme a portare Mourinho qua, e anche per me è un orgoglio ogni giorno, guarda io sono portoghese, ho 36 anni, come tu puoi immaginare da bambino che Mourinho è una referenza, anche se lui ha allenato il porto, io vero da mia figa, ma tu sai che per un portoghese Mourinho ha una dimensione un po' stratosferica, per me, chiaro che oggi sono un professionista, molte volte possiamo anche non essere d'accordo, ma io approfitto ogni giorno per imparare da lui, perché lui ha lavorato in lo meglio club del mondo, lui ha vinto tutto, ha 25 titoli, ma questa pressione che tu parla io non lo sinto, perché noi abbiamo riuscito a lavorare insieme ogni giorno, anche prima della stagione iniziale, abbiamo fatto una caratterizzazione, una valutazione della squadra, insieme, sappiamo quello che possiamo fare e quello che non possiamo fare, e quando lui dice qualcosa come tu aveva detto, ma guarda, se io guardo la panchina della Roma, io, Darboe, Bove, Reinald, Scalafiore, chiaro che non è solo Mourinho che può dire che manca esperienza, tutti noi possiamo dire, l'esperienza a lui che è lo più forte del mondo, ma in questo progetto noi abbiamo sempre detto che aveva un spazio per sviluppare calciatore, ma rispondendo chiaramente a te, io sono orgulloso, felice e motivato di lavorare ogni giorno con Mourinho. Buonasera, le volevo chiedere, a livello strategico, come si è passati dalla priorità Shaka, che era comunque uno dei primi obiettivi, se non il primo, a prendere zero centrocampisti, come c'è stato questo cambiamento? E poi appena detto che c'è poca esperienza in panchina, se avete già deciso per gennaio di tornare sul mercato. Io credo che sulla domanda di Shaka, io credo che ho risposto, no? Il mercato è dinamico, hanno successo cose nel mercato che noi avevamo bisogno di dare una risposta e alla fine aveva sempre una ligazione, un legame tra la uscita e la entrata del calciatore. Noi avevamo cinque o sei centrocampisti e dopo con l'andamento del mercato abbiamo deciso di non prendere nessuno. Ma è importante dire che nel centrocampo della Roma ha un campione d'Europa che si chiama Brian Cristante, a un calciatore che credo che è lo che ha segnato più gols, il centrocampista con più gols dell'Europa adesso, che sta nella Nazionale di Francia, a Villar che è stato titolare in tutte le partite di Under 21, di Under 21, di Spagna, a Diawara, a Darboe, non possiamo parlare come se non avevamo centrocampo, no? Io credo che è importante anche per rispetto a Cristante avere tu, a Diawara, a Villar e a Darboe, che dobbiamo un po' capire tutto che voi avete detto del centrocampo. La tua domanda fa senso perché io ho detto qui, è vero che abbiamo voluto prendere il sciacca, ma adesso dobbiamo un po' bilanciare le cose. Quanto a gennaio, io ho una piccola cosa che io penso un po' diverso da voi, che io credo che voi pensate che tutto il successo sportivo, forse la grande parte del successo sportivo, se c'entra il mercato. E per questo oggi siamo qui per parlare di una finestra che ha finito ieri e la domanda è su gennaio. Io credo che ha tanto lavoro da fare ogni giorno con una squadra di calcio che ti permette di vincere, che non è solo il mercato. Il mercato è importante. In gennaio saremo qui per valutare, per capire se i calciatori hanno sviluppato oppure no, se abbiamo infortuni, se l'allenatore è soddisfatto, come è la classifica. Possiamo analizzare tutto, ma io non posso saltare di settembre per gennaio. Noi siamo qui anche una struttura di 40-50 persone per sviluppare il calciatore, per aiutare l'allenatore, per andare avanti. Perché se era solo il mercato, Lille non aveva vinto il titolo la stagione scorsa, no? Pastore, il romanista. Buongiorno. Murigno ha detto che il mercato è cambiato in corsa per l'infortunio di Spinazzola e per le scelte di Geco. Se tutto fosse andato invece secondo i piani iniziali, la società avrebbe investito cifre simili a quelle spese per Vigna e Abra, ma anche i ruoli differenti? Non lo so. Come aveva detto, il mercato è dinamico. Quando succede qualcosa, io sono una persona, anche nella mia vita, che quando succede un problema io guardo un'opportunità. Quando è successo il tema di Spinazzola, mi dispiace, Spinazzola stava giocando molto bene, stava motivato con il cambiamento anche nella Roma, ma abbiamo preso Vigni e credo che abbiamo soluzionato un problema, anche perché abbiamo adesso tre terzini, quando l'EU può essere recuperato, abbiamo tre terzini veramente forti, due di prospettiva. Quando è successo con Geco, magari tante persone hanno visto quella situazione come un grande problema. Io ho cercato di vedere un'opportunità per accelerare il nostro progetto sportivo, abbiamo preso Abra, ma non ti posso dire, sai, perché è dinamico il mercato. Noi dobbiamo, per me quando tu dici, o quando le persone dicono che noi abbiamo fatto un mercato riattivo, ma è così con tutti, perché il mercato è dinamico. Molte volte noi vendiamo quelle che non vogliamo vendere e non riusciamo a vendere quello che volevamo vendere. Il mercato è così, noi dobbiamo sapere ogni giorno, reagire a quello che nel mercato succede, che ci dà. Paesano, Roma Radio. Buon pomeriggio. Volevo sapere se è difficile e quanto è difficile per lei, insomma per il suo mestiere lavorare appunto con il campionato appena iniziato da due giornate e verso la fine appunto. Sì, a me non mi piace, perché sai che io ho venuto da una realtà, come sai tutti i club portughesi vendono molto, io ho venuto da una realtà dove noi dentro del club avevamo sempre l'idea che erano due stagioni completamente diverse, quando il mercato è aperto e quando il mercato è chiuso. Perché è impossibile non essere così, calciatore, procuratore, direttore, allenatore, noi stiamo giocando allo stesso momento, ha tante cose che va in nostra testa, sai? Per me è qualcosa che non mi piace, perché io credo che noi fortunatamente abbiamo vinto le quattro partite, abbiamo fatto molto bene, ma non è facile gestire una squadra, gestire calciatore, gestire tutto questo ambiente con il mercato aperto. A me non mi piace, ma sono le regole, andiamo avanti. Facciamo l'ultima, Orichio, Teleradio Stereo. Buon pomeriggio direttore, volevo chiedere se l'atteggiamento, diciamo mantenere il punto fermo verso gli esuberi è una nuova filosofia adottata dalla società. Grazie. Dei esuberi, no? Sì, sì, sì. Oh. Io, prima di essere direttore sportivo, sono un tifoso del calcio. Io andavo al stadio per vedere il calciatore e l'allenatore, non per vedere direttore sportivo come Tiago Pinto. Alla fine il mio lavoro è anche rispettare il calciatore, no? E rispettare la decisione. ma devo anche essere onesto, non è facile per me come direttore sportivo trovare quattro, cinque, sei offerte che io considero importanti e che non danneggiano i contratti e la onorabilità del calciatore e dopo non accettare. Io ho detto domenica prima la partita di Salernitana. Questa è stata una scelta molto difficile. Iniziare la stagione, avere 60 calciatori su contratto, sapere che è impossibile per Mourinho o per qualcuno allenatore gestire tutti quei calciatori in un allenamento. Koeman ha detto la settimana scorsa, no? Io sono un allenatore che ha fatto quattro, cinque corsi ma nessuno mi ha insegnato. Insegnato. Insegnato a lavorare con 34, 35 calciatori. Noi abbiamo fatto questa scelta per ridurre il gruppo e per dare la possibilità di creare questo ambiente che io credo che tutti voi vedano, no? Una squadra compacta, coesa, unita e disposta a lottare per la Roma all'ultimo secondo. E questo atteggiamento, questo spogliatore, questo ambiente non cambia. È inattaccabile. Dopo è con me, è con me, è con gli avvocati. Io sono qui per prendere la responsabilità. Io ringrazio molto tutti i calciatori che sono stati in questa situazione. Ringrazio anche i procuratori perché il 95% di loro hanno fatto veramente un sforzo per trovare una soluzione. Io non voglio parlare di nessuno ma di due o tre che hanno fatto veramente un sforzo importante per trovare una soluzione. Alla fine siamo tutti esseri umani liberi che prendono la decisione e dopo noi abbiamo la conseguenza. Grazie a tutti. No, no, più domande? No, no, come? No, io non voglio parlare di nome ma io ho sentito calciatori importanti che hanno fatto veramente un sforzo per dire no, io capisco il momento, voi stanno facendo un lavoro incredibile, io sono qui, lascio qualcosa, io vado da una parte che mai ho pensato che poteva andare per giocare. Io questo tipo di calciatore per me, io ricorderò sempre. Villar è il calciatore della Roma, è un bravo calciatore, un bravo centrocampista e l'anno scorso ha giocato 42-43 partite, io credo che lui deve approfittare l'opportunità di lavorare con Mourinho per sviluppare il suo gioco e per diventare un calciatore più importante del che era. Hai sentito il peso di Mourinho in questa sessione di mercato? Per capitare del tuo fascino? No, completamente, io credo che quando forse le persone non lo vogliono dire ma io per me è un'altra volta, è un orgoglio e ci aiuta quando tu vai 4 giorni, 5 giorni a Londra, io credo che è stato Roberto che mi ha detto, io non ti ho detto niente, ma io pensavo o porta Abraham o prendo un aereo per Portugal, no? Quando tu vai a fare un lavoro come noi abbiamo fatto non è la stessa cosa avere un altro allenatore e per Mourinho e questo è chiaro un avvantaggio che noi, io credo che siamo stati bravi anche a approfittare e io credo che è stato un'aiuto molto molto grande. Direttore, mi scusi, già che ci siamo, ci può dire quando prevedete di far tornare Smalling a disposizione e a questo punto anche Spinazzola, visto che è un giocatore della Roma. No, Spinazzola non posso parlare perché è più complicato, no? Non lo so esattamente perché lui sta con una voglia incredibile di ritornare a giocare e noi dobbiamo fermare un po' l'aspettativa. Smalling io credo che la prossima partita con Sassuolo è disponibile, lui ha fatto un precampionato buono dopo ha avuto quell'infortunio, ma io credo che non sia niente di grado. Direttore, volevo chiedere questo, pensa che ci sia un margine di rischio nell'aver dato gratis o quasi gratis a cifre basse giocatori come Dzeko, Pedro e Florenzi a delle competitor dirette? In questa vita qualsiasi decisione è un rischio. La porta quando decide di lasciare andare via Messi è un rischio incredibile, no? Questi tre calciatori che tu hai parlato sono tre situazioni diverse, ma quando un calciatore non vuole giocare nella Roma, vuole andare via, giocare per l'altra squadra, per me questo è importante perché noi stiamo costruendo un progetto nuovo e diverso dove le principali referenze della squadra devono morire per la Roma. Abbiamo riuscito a trovare un accordo con tutti loro, io credo che alla fine se noi guardiamo il mercato, se guardiamo lo che è successo con Cristiano Ronaldo, che è successo con Messi, che è successo con Griezmann, se noi guardiamo un po' lo che è successo con questi big calciatori, vediamo che alla fine la Roma non ha fatto niente diverso da che le altre hanno fatto. Forse ha comunicato peggio, forse ha comunicato peggio. sbaglio io perché voglio sempre comunicare la verità, ma alla fine credo che tutti noi sappiamo che stiamo parlando di ingaggi importanti e che noi per fare questo management sostenibile che ho parlato tante volte dobbiamo fare la scelta che abbiamo fatto. Ma sono... Sì, sì, no, io... Tu hai fatto una domanda, la prima cosa che ho detto è sì, è un rischio, tutta la decisione che abbiamo preso è un rischio. Dopo ti sto spiegando lo che facciamo. Ma non è per me... Non sono una persona che guarda le partite dell'Inter aspettando che Dzeko non gioca. Sono felice. Sono felice. Dzeko è stato un calciatore molto importante nella storia della Roma. Quando sono venuto a Roma è stato un piacere enorme per me lavorare con un campione come lui. ma la stagione scorsa avevamo Dzeko e Borja Mayoral. Adesso abbiamo Borja Mayoral, Eldor Shomodorov e Tami Abraham. Non mi sembra che possiamo stare peggio. Facciamo l'ultima. Direttore, lei ha detto che è molto esigente sul valutare il suo lavoro. Che voto dà al suo mercato, al suo primo mercato da romanista? Io credo che qui è di zero a dieci, no? Guarda, se considerare, se considerare, se pensare che tante persone pensavano che io non facevo mercato, io direi che forse sarebbe un otto. Se considerare che questo è il mercato più difficile della storia del calcio, forse potrebbe anche dare di più, ma alla fine io credo che dobbiamo essere ragionabili, io credo che ha sempre margine per imparare e migliorare, io direi, forse a sette mesi.